Partecipo molto volentieri allo sportello co-housing dove cerchiamo di informare e informarci riguardo a possibili soluzioni di coabitazioni per anziani in diverse tipologie di appartamenti, camere e unità abitative. Ho deciso di mettere a disposizione il mio negozio per diffondere questo progetto e per far conoscere la realtà dello sportello co-housing che si trova in via De Paoli a Pordenone presso la casa del volontariato dove un gruppo Ama Co-Housing si incontra ogni lunedì per informarsi, informare e discutere. riguardo a possibilità concrete nella nostra regione. Ho deciso di mettere a disposizione questo negozio perché possiate venire a chiedere informazioni, a dare eventualmente informazioni e per diffondere questo progetto in cui credo molto.